Esordisce nel 1983 con il brano Rocking Rolling, vincendo la sezione Disco Verde del Festival Bar. Segue l'album Estensioni, che contiene tre brani scritti da Mango. Ottiene il Telegatto come rivelazione dell'anno, sotto legida di Franco Migliacci e del regista Pizzo Raffanini. Interpreta due video sperimentali tratti da sue canzoni. Rocking Rolling, l'Io e l'Es. Quest'ultima sarà anche inserita nella colonna sonora italiana di Samba d'Amore. Telenovela brasiliana del 1980 ma trasmessa da Rete 4 alcuni anni dopo. Nel 1984 è la volta di Cigarette and Caffè. Canzone da lui scritta all'età di 14 anni. Che arriva seconda al Festival Bar ed è in seguito oggetto di una cover di Mina. Contenuta nell'album Sorelle Lumiere, esce anche il mini-album Animale. Che contiene Ti piacerà è notturno. Quest'ultima è inserita nella colonna sonora del film Vacanze. D'estate di Nini Grassia. Nel 1986 partecipa al Festival di Sanremo con Nois No West. Seguito dall'album Shalpy. Durante l'estate del 1986 lancia Cree. La voce dentro. Lato B di Nois No West che partecipa al Festival Bar. Nel 1987 torna al Festival di Sanremo presentando Bella Età. Nel 1988 vince il Festival Bar. In coppia con Scarlett Von Wallenman. Con la canzone Pregherei, tratta dall'album Morso e via. Nel 1990 partecipa come co-conduttore. Insieme a Sabrina Salerno. Alla trasmissione ricomincio da due condotta da Raffaella Carrà e appare nell'episodio Caprese in. Der Stadt. Emilio Caprese è in città? Del telefilm L'Ispettore Derrick. Sempre nello stesso anno esce l'album Trasparente. Anticipato dal singolo Il Grande Fiume. Nel 1991 scala le classifiche italiane con il singolo A. Amare. Tratto dall'album Neroe. Nel 1992 torna a Sanremo con È una nanna. Tratta dall'album 360 gradi. Che però viene eliminata subito. Nel 1994 esce XXX. Anticipato dal singolo dell'estate Batch Money. Nel 1995 esce Spazio 1995. Con vecchi brani riarrangiati ed il singolo Che per amore fai. Nel 1996 recita, insieme a Chiaro Noschese e Giampiero Ingrassia. Nel musical Il pianeta proibito. Diretto da Patrick Rossi Castaldi. In questo musical la Scialpi interpreta il personaggio di Prospero. Nel 1997 interpreta, sempre diretto da Castaldi, la pièce teatrale Pellegrini al Teatro Colosseo di Roma. Nel 1998 interpreta Bella Signora. Pubblicata nel CD Innamorandi. Nel 2001, dopo sei anni, è la volta di Sì o Sì e dell'album Greatest It's. Nel 2003 esce l'album Spingi. Invoca, Ali anticipato dal singolo Pregherò Imparerò Salverò. Che, dopo anni, segna il ritorno di Scialpi con un album di inediti. Nel 2004 partecipa alla prima edizione del reality show Music Farm condotto da Amadeus su Rai 2. Nel CD del programma Scialpi canta l'isola che non c'è e si può dare di più. Nel 2005 esce il singolo Non ti amo più accompagnato da un videoclip ispirato alla canzone. Francese Jay et Taime, Moi non plus. Nel 2006 pubblica l'album Autoscatto. Anticipato dal singolo Goodbye. Nel 2008 è protagonista del musical dedicato alla vita di Rodolfo Valentino. Nel 2011 torna con un progetto multimediale dal titolo Liberi e Romantici. Composto da 12 brani che con cadenza mensile vengono messi in downloading in rete. Vengono realizzati e pubblicati effettivamente solo due brani. I Believe, I Canfliere e Iam. Poi il progetto viene definitivamente abbandonato. Nel 2012 cambia il proprio nome d'arte in Scialpi. Quindi pubblica il singolo Il vento caldo dell'estate. Con nuove sonorità synth-pop. E il singolo internazionale pop-dance Iconman. Che ottiene un grande successo in Canada, Stati Uniti e Nord Europa. Nel 2013 esce il singolo Music is Mine. Nel cui videoclip musicale Scialpi appare con la modella Veronica Ciardi. Il 25 marzo 2014 esce il singolo Come Tume. Con il quale Scialpi intende ritornare al pop romantico e lo promuove in Spagna e Italia. Nel giugno 2014 esce per il mercato di lingua spagnola il singolo Besame. Il 9 dicembre 2014 vede l'uscita del singolo If You Realli Va Tu un brano pop-dance che Rappresenta il concetto delle global people. Un gioco-dance con un videoclip dove traspare il messaggio nel quale tutti noi possiamo essere protagonisti della nostra vita, dei nostri sogni e dei nostri sentimenti. Basta tenere in equilibrio noi stessi per essere protagonisti e vincenti nel mondo. Il 13 luglio 2015 annuncia di volere sposare. Dopo sei anni di convivenza. Il suo manager Roberto Blasi. Il matrimonio gay si tiene a New York a fine agosto. A settembre entrambi partecipano come concorrenti alla quarta edizione del reality show di Rai 2. Pechino Express formando la coppia dei compagni. In questo periodo viene pubblicato online il doppio bootleg ufficiale con demo. Provini inediti e remix dal titolo è la musica. Il 19 gennaio 2016 esce il video del nuovo singolo Petty Rosso. Con cui Schalpy torna a cantare in italiano. Dopo alcuni brani prodotti in inglese. Il singolo pop, scritto e prodotto dallo stesso Schalpy. Contiene due versioni. La prima cantata in duetto con il suo compagno Roberto Blasi. È la versione a solo. Il testo del brano è coerente con l'impegno assunto dai due di perorrare la causa dei matrimoni omosessuali.